guarda che, scusa Gio se ti fermo, guarda che Fioravante 3 a 0 al terzo tra poco devi entrare in campo. Tu giri col pallone. Sì, sto facendo prima di riscaldare col pallone e poi... Ma il feeling col pallone com'è? Come quello con la racchetta e la pallina no? Non tanto, però me la cavo dai. Sì? Me la cavo, me la cavo. Chi è il più forte calciatore tra i tennisti? O almeno quelli delle parti tue, da Orazio, Mastrelia? No. Di maestri c'è il concilio che è fortissimo e a seguire Cardone. Alessio è forte. Ciro è forte? Alessio ha giocato pure nel portico. Caspita, ma tutti i tifosi del Napoli o c'è qualche pecora bianconera? Io in Mastrelia e Cardone. Della Juve? Sì. No, sai che questo ti farà perdere consenso. Può essere. Buona scalciata. Grazie.